L'assessore Francesca Mercati, siamo pronti per questo straordinario evento per il 2023? Sì, siamo pronti, prontissimi e anche molto emozionati, devo dire. Oggi presentiamo questi eventi che cominceranno appunto questa sera, da venerdì 25, ci accompagneranno fino al 10 settembre. Pensiamo quindi quante giornate, quanti eventi, quante occasioni, quanti appuntamenti e quanto impegno anche da parte di tutti. Il Comune ci ha creduto molto, crede molto nei vari cicli di eventi che appunto cominceranno da oggi. Si è impegnato, questo comporta appunto un impegno organizzativo, economico, lavorativo di un certo rilievo. Stiamo lavorando tutti in sinergia per la nostra città, per promuoverla al meglio, per richiamare tanti turisti e per aglietare anche i nostri borghesi. Si comincia con DJ Matrix questa sera, come è stato detto, per andare voi con il concerto della PFM, Canzonissima, Paolo Crepe, insomma modernità e tradizione. L'offerta dell'Eberta Music Festival è veramente molto variegata, quindi complimenti anche a Shitty Del Fare, non soltanto per l'ideazione dell'evento, ma anche appunto per la scelta dei vari artisti. Grazie. Grazie. Grazie.